Bene a tutti ragazzi, siamo su Rally Point 2 Ecco, prima abbiamo fatto l'1, ora il 2 Finalmente con le confie, car 3, credo che la Junt, non lo so Però va a corrispondere ad una Nissan Skyline Di Fast and Furious credo, sì, sì Eccoci qui, loading, ragazzi metto pausa Sto andando, sì, andiamo, andiamo ragazzi No, no, aiuto, che è successo? No, ragazzi, è tutto ok No gioco, non è come pensa, devo rifare Ok, right, which way? Perfetto ragazzi, andiamo, via! Guardate, sull'1 trapassava, cioè passava quella parte Vabbè, sì, sì, vuol dire che è veloce questa E come ragazzi? Rally Point 1 è sempre il migliore, no? Allora, abbiamo una cosa da fare Non becchiamo le cose, i pali, eccetera, eccetera Andiamo Alziamo volume Ora si ragionerà, vedi? Allora, andiamo Stave Abbiamo già finito A tutta velocità Ok, perfetto Allora, continuo Abbiamo la Questa è l'Appetite XS Più, sì, ragazzi Credo che la conoscete Non lo so Beh, non importa Non importa Che andiamo Siamo veloci Già Sta sto schifo Cominciamo Andiamo Corriamo E becchiamo Wow, lo schivato Beh, per me Allora Andiamo da questo lato E andiamo Capperetti Non ci gioco da una vita A Rally Point 2 Vabbè È figo Stavo Vero, ragazzi? Beh Spero che vi è piaciuta La serie di BulletinRabber 3 Sì Sto facendo anche Molti progressi Su quello No Che peccato Hanno toccato la rituale da dietro Vabbè Nel 3 c'è 4 c'è 5 c'è Ehm E tutti gli altri Conoscete Ah 55 Mostriamo la velocità Beh Un bello Perdevamo Ma ce l'abbiamo fatta Ah Continua Nuova auto Sbloccata Beh Ah Questa Vabbè Chi se ne frega è bella Ma dopo bisogna usarla Ora non possiamo Dobbiamo Riuscire la Appetite Sì Appetite come Appetito Avete notato Avete notato sotto C'è la Come si chiama quella La Vulcan ZB La Monster O come dire La Scusate Era qua sotto Un attimo Mia madre Che mi aveva Questo sasso Va schifo Era qua sotto Un attimo Mia madre Che mi aveva Spaventato E vabbè Lasciamo stare i costi E andiamo Con l'appetite Come dire Petite No ma che capo E non cosa la perdiamo Di sicuro Sono i tuoi numeri Tutti rossi Il rossio non è buono Il rossio è brutto Quindi la vedremo Ma non vuole perdere Ma ci vediamo Così Hai vedere come funziona Funzione come Abbiamo già finito la gara Mi prendete in giro Beh No Ahia Ho preso una Una cofanata Continua E Questo Andiamo con questa E questa dovrebbe essere La sprycer Tubbo E se invece Punirla perché È il jumper Salta triste No? È strano Questo dovrebbe essere Giungla No Non ne ho la minima idea Ma è sempre un bel bordo Punirla Sì Su rally point 1 Cioè È da troppo rally Cioè Non quella Deserto Sapete Di solito i rally Si fanno il deserto Ma quello È troppo deserto Qua almeno Mi sentono giungla Nel 3 Quattro Sapete Tutte le cose fighe Viagge Montagne Tutte le cose Di solito il deserto Non si fa solo nel deserto Però Si è sforzata Ha fatto Del deserto Del deserto Si è sforzata Abbiamo stato Già vinto la gara Ma Sapete Ha fatto Rally point Del deserto E sapete Tutte le altre Allora Qua ce l'abbiamo fatto No? Se non abbiamo fatto questo Non lo facciamo Scusate ragazzi Volevo Rifarlo Ma Adesso Con questa No? Me la ricordavo Che non era Un po' buono e forte Quest'auto Eh Ma come vedete È fatto Ma non è detto Che perderemo Non è mai detto nulla Mai dire mai Oh aspettate Sapete Giochi di parole Non è Vabbè Lasciamo stare Allora Ma perché questa macchina Dicono che non è tanto La legge Beh È veloce La Quella di Rally point Tranquo Vedete Tutti i numeri Non è buono Così È giusto Non è possibile Capro Là ci mettiamo i minuti A fare Le gare Ma non è Che ci metto Tanti minuti Beh Qua ci metterò Tanta Forza E perdita Sì Continua Tanta L'avevo già fatta Allora dovrò fare questa Dai al colmo Ok Ok ragazzi Ci sono Allora per favore Escimi bene Capro Non l'ho incontrato Ah è No Mi dicevo che l'ho incontrato Mi dicevo che l'ho incontrato Mi sembrava strano Oh verde Oh Non ho tre anni Allora se mi esci rotto Ma rapido Ti prego Non uscire L'ho incontrato Ah bene Bene Verde E tanto è buono Strano Vabbè Una macchina Non è completa Guardate È giù 250 Guarda 200 Pensate Quello di mio padre È un po' difficile Che riesci andare a 200 Anche le altre macchine Sapete Quale è normale Questa è una Vulcan O come dire Una BMW Sì lo so Vi ho spoilerato la pera Ma come potete fare Allora Questa è una BMW L'ho sempre detto Prima di andare sulla wicca E vedere che è una opera BMW È una BMW M6 Se non sbaglio Ecco Sì è giusto Ma poi se vedete Ci sta quei Quelli incontri Che mi ricordano Alveare Mamma me Quello di che Mi bloccano Che dicono La gara è finita E va bene Allora Andiamo Veloci 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 E vinciamo E vai E vai Nuova auto Eh sì Eh Ce l'ha merita Dobbiamo fare questo E questo Allora Allora ragazzi Questa gara l'ho già fatta Quindi Scusate Vabbè Almeno vi faccio vedere Questa parte Che finisco Tanto che c'è di male E forte Nel prossimo episodio Vi faccio vedere Un'altra cosa Che vuol dire la barcetta Esatto Vuol dire la barcetta Questa è la mia Uno Vabbè Ma che ballo Bene ragazzi Nuova auto Bloccata Faremo Questa 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 E prendiamola Evader Ragazzi Evader Bene Sì ragazzi Un attimo Questa gara Anche con voi Quindi se il video Non ce la farà E la gara Non viva Beh Ho fatto Beh Spero che questo video Vi sia piaciuto Beh Ci vediamo alla prossima Ragazzi Ciao Ciao